Lì, te prego. No. Che avevamo a fare? Ma dove ci vorrei? Ma che non lo viste? Furnissi. Ma ti rende conto che ci stanno guardando tutto quanto? Eh. Tutto quanto mandava reto. Ma va bene, taggetto. Tutto quanto mandava reto. Basta, torniamo a reto. Buongiorno. Buongiorno. Prego, come sei? Da quantiere di pasta. Ciglione, bella quantiere di pasta, signora Carracci. Marcia, te la saluto. Buongiorno. Mi fa impressione di sentire a me, signora Carracci. Pure a me. L'abbiamo visto? È vero, Giglio? Proprio pomeriggio l'abbiamo visto. È vero. E ieri pomeriggio? Esatto. Ora ti fanno. Sì. 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 È buono che fossi tua esposa. Ma voglio pure la fotografierina da vetrina. Sì. Ma io ho ancora una esposa a te. Una esposa a tu, no? Pure Elena si va a sposare. Ma quando mai? Come quando mai? Perché ti ha sposato pure così qua tutti? Mi dispiace, Michele. È già fidanzata. Sì. 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 Sì.